buonasera amiche buonasera amici mi chiamo marcello secco faccio questi video perché sono appassionato di moto se anche tu come me lo sei iscriviti al canale attiva la campanella perché pubblico un video al giorno in questo modo sarei costantemente aggiornato aggiornato sui nuovi contenuti oggi voglio parlarvi di una moto interessante per un motivo specifico si tratta della java 350 twist sport del 2002 e a proposito mi ha scritto l'amico alberto quindi andrò a leggere il parte del suo scritto che pubblico poi naturalmente qui sotto in descrizione per introdurre l'argomento e mi scrive letteralmente dunque dal momento che parliamo di motore due temi ecco allora innanzitutto si parla di motore a due tempi perché enzo che scrive su un youtuber che scrive su enzo motori afferma che si passerà al motore a due tempi con bio carburanti quindi che il futuro della moto sarà il ritorno se vogliamo perché comunque il motore due tempi è stato abbandonato per le normative antinquinamento ma questo ritorno del motore al motore a due tempi sarà il futuro della mo questa è la sua concezione di quello che sarà il futuro della moto che in questo momento non è fatto in questa direzione e mi auguro che sia veramente così perché due tempi vuol dire leggerezza e semplicità quindi torno alla lettura sono esistite e in caso di stand corvi par delle motorette che venivano dall'est europa che costavano come ciclo motore ecco in particolare adesso parlerò di java appunto e la casa costruttrice java che era di cecoslovacca ne parliamo dopo e naturalmente aveva dei prezzi poi quando veniva importate in occidente perché comunque c'era l'importazione in occidente molto bassi di queste moto che erano appunto simili a quelle di ciclo motorino strane di una certa qualità ma che erano ben costruite nulla a che vedere con moto cinese ed erano indistruttibili si generalmente erano moto piuttosto robuste proprio perché destinate a questo tipo di mercato mercato comunista senso che erano paesi che orbitavano in questo tipo di mercato poi dice erano le mz due tempi smz mitica marca se non sbaglio dell'europa di della germania dell'est le saxon che non conosco di una verità oppure le mitiche java di cui appunto andremo a parlare questo costruttore regione cieca esiste ancora si produce delle moto a quattro tempi ed è nato parecchi anni fa nel 29 quindi vediamo un po di storia brevemente la mangiava moto prodotto in cecoslovacchia e dagli anni 30 fino a 1992 successivamente in quello che adesso viene definita repubblica cieca i suoi modelli di moto in particolare a due tempi e vediamo appunto una di queste moto che è la java 350 è stata una moto molto popolare grazie alla sua commercializzazione scusate nei paesi del blocco comunista dell'oro orientale dagli anni 60 fino agli anni 90 fra le case costruttive erano appunto le tedesche mz e simpson la produzione della java in questo modello infatti diversi naturalmente java però in questo modello twin sport twin modi doppio quindi per il fatto che un bicilindrico inizia nel 94 fino al 2002 a motore quindi bicilindrico due tempi raffreddato ad aria da 343 centimetri cubici e la potenza massima di 29 cavalli e 5.500 giri al minuto con una coppia massima di 38 newton metro a 4500 giri il telaio doppia culla in tubi d'acciaio con un semplice telaio e la sospensione anteriore formata da una forcela telescopica in questo caso il freno a disco che prima era tamburo poi si è passati appunto in epoca più recente al freno a disco che si vede bene nell'immagine la sella poi alta 780 mm da terra al posteriore abbiamo una coppia di ammortizzatori e il freno invece a tamburo le ruote sono entrambe da 18 pollici sia l'anteriore come al posteriore e il serbatoio e da 17 litri con un peso secco di 165 di soli 165 kg quindi una moto vedete molto semplice che ha dalla sua la semplicità costruttiva e anche naturalmente il fatto poi di non dare problemi proprio per la sua robustezza e semplicità produttiva bene quindi se vi è piaciuto il video vi chiedo di mettere un like se non vi è piaciuto dislike iscrivetevi al canale attivate la campanella in modo da essere sempre aggiornati qui sotto i vostri commenti sempre molto graditi ciao buona serata